bentornati raga qua è savix che vi parla e benvenuto se sei nuovo nel canale allora ragazzi oggi video diverso dal solito e vi voglio raccontare e spiegare cosa succederà di nuovo per savix nel 2023 ciò cosa vuol dire nuovi progetti nuovi format nuovi contenuti nuovissimi video anche magari un po più divertenti ragazzi non si sa mai comunque sia voglio stravolgere il canale voglio prendere nuovi iscritti voglio prendere iscritti anche di altre cose per altri format non solo gta voglio rendere il canale un pochettino più grosso ragazzi e se magari la cosa va veramente bene perché non aprire un secondo canale youtube magari dedicato solo a tutto a queste altre cose e mantenere questo solo di gta comunque sia ragazzi vi lascio in descrizione tutti i link dei miei social ragazzi ho 3000 iscritti su youtube e su instagram siete veramente in pochi quindi link in descrizione aiutatemi e salite pure su instagram passate tanto un mi piace un iscritto non vi costa nulla è gratis poi ragazzi nuovo cosa avevo twitch mi è stato tolto twitch per inattività mi me l'hanno chiuso non mi chiedete perché avevo tanto 90 iscritti poca roba ragazzi riniziamo da capo ho aperto il canale di twitch raga xavix live tv quindi link in descrizione iscrivetevi perché ci saranno contenuti tutti i giorni tutte le serie ragazzi live 7 no 7 magari no perché se no mi taglio poi le vene facciamo magari cinque giorni su sette ci saranno le live ragazzi quindi iscrivetevi e sostenete questa nuova cosa che sto portando allora vi voglio anche parlare che vorrò iniziare col botto ragazzi conoscete tutti crash bandico il gioco mio preferito da bambino che porterò in anteprima ragazzi su youtube vi faccio vedere un video di quando ho iniziato a giocarci parliamo di ieri praticamente ho fatto l'introduzione ho fatto due missioni ho fatto due livelli ragazzi e mi sono divertito e vi faccio vedere la situazione continuerò questa serie sia su youtube che su twitch quindi live su twitch e automaticamente da quella live strappolerò i momenti più salienti dove magari tiro via le cose che non ci sarà mai perché crash ragazzi a me fa particolarmente cioccare l'altro giorno ero in casa e qualcuno in casa mi fa sembra di avere il masseo ma non va bene ragazzi non ci siamo però è così quindi non ci preoccupiamo iscriviamoci non costa nulla canale twitch canale youtube regà quindi non aggiungiamo altre chiacchiere ragazzi vi ho spiegato tutto i link dei vari social sono in descrizione più tardi faccio uscire il primo video in anteprima su youtube di crash bandico dopo di che vi vi spiegherò stesso nel video come continuerò e come dovrete fare per seguire quella serie e per seguire anche tutte le nuove attività su twitch bella regà alla prossima link in descrizione iscrivetevi attivate la campanellina mettete attività su tutte fate quello che dovete fare ragazzi facciamo crescere questi canali bella alla prossima pah pah pah